Ciao a tutti ragazzi e fratelli di Melagodo E invece io l'ho reputo un po' una cosa secondaria Però secondo me ha avuto dei passi da gigante nel 2007 con l'uscita di Crysis 1 E poi si è andata successivamente a migliorare con il seguito Crysis 2 E poi con il Frostbite 2.0 con Battlefield 3 ha raggiunto picchi da avere celsi E continuerà a migliorare secondo me Però di poco perché comunque secondo me la grafica per altri 5-7 anni si migliorerà di poco Non farà dei grandi sbalzi come è successo appunto nel 2007 E invece poi dopo un po' di tempo ci sarà un radicale sbalzo secondo me Però sono tutte ipotesi ovviamente Poi invece il gameplay è quello che è tutto quanto il videogioco Ovvero tutto ciò che noi possiamo fare o non fare Dalle mappe, dalle azioni che possiamo compiere Ad esempio in un FPS la varietà delle armi O altrimenti ciò che possiamo impartire Quali ordini possiamo impartire ai nostri compagni di squadra eccetera eccetera E molto spesso però in molti videogiochi Specialmente in quelli attuali Gli sviluppatori pensano specialmente alla grafica All'estetica perché è la prima cosa che salta all'occhio come ho detto prima E i casual gamer ci badano di più invece che a un gameplay più curato E secondo me questo qui è la pecca dei videogiochi che ci sono attualmente Che non c'è quel rapporto, quel fattore che vi ho detto prima Il rapporto tra la grafica e il gameplay Infatti penso che bisogna prima avere un ottimo gameplay E poi adattarsi una giusta grafica Per farvi un esempio trattiamo Minecraft Minecraft è un esempio banalissimo però è molto cazzante Infatti Minecraft ha una grafica molto pixelosa Trasciando le varie texture pack Ha una grafica che è basilare però è giusta Ha cubetti ed è funzionale al proprio gameplay Quindi noi non ci serviranno curve e robe varie Molto così delle grafiche attuali Però si adatta perfettamente al proprio gameplay Infatti io penso che sia la grafica a doversi adattare al gameplay E non il gameplay alla grafica Però questo qui è un errore che sta accadendo molto spesso Nei videogiochi comuni che si focalizzano troppo Sullo sviluppo della grafica Perché comunque vogliono sempre appliare il loro pubblico Infatti la grafica è la prima cosa che salta all'occhio Come ho detto prima è Casual Gamer E quindi loro acquistano principalmente per quello Dicono wow questo videogioco è una grafica formidabile Compriamolo perché è sempre qualcosa di nuovo E invece la grafica se notate bene Comunque in questi ultimi periodi sta migliorando veramente poco E invece il gameplay è sempre lo stesso Cioè è sempre rifilato da qualche videogioco Oppure ripreso dai vecchi capitoli Ed è stato invece vengono totti degli altri elementi al nuovo capito Sempre per non creare il videogioco perfetto E se no la gente giocherebbe soltanto a quello ovviamente E beh ragazzi secondo me ci sarà un periodo come ho detto prima In cui la grafica migliorerà di poco E gli sviluppatori potranno approfittare secondo me di questo periodo Per focalizzarsi principalmente sul gameplay Rendendolo un po' più vario Perché alla fine come ho detto prima ci ripropongono sempre la stessa minestra già riscaldata E beh ragazzi spero di avervi fatto un po' di luce su questo argomento Spero che vi possa essere piaciuto questo commentary Iscrivetevi a Melagoto se ancora non l'avete fatto E fate un salto anche sul mio canale ragazzi Ciao ciao